Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal refettorio, che come tutti i luoghi, diciamo i luoghi da pranzo del mondo, oggi fanno festa. Ecco, tutte le famiglie si riuniscono per celebrare questa importante giornata, come qui a San Giovanni Rotondo e come faceva anche lo stesso nostro caro Padre Pio che sedeva proprio qui. E noi ci sediamo proprio accanto a Padre Pio, tra Padre Pio e il presepe, proprio perché vogliamo leggervi una pagina del suo epistolario, l'epistolario numero 4, che vi esortò a riprendere tra le mani e leggere una pagina che Padre Pio ha dedicato direttamente al Natale. Si tratta di un breve discorso insieme ad altri che un confratello francescano, Padre Zecchardone, quando è stato qui a San Giovanni Rotondo negli anni Sessanta, chiedendo a Padre Pio dei fogli, ecco, su cui prendere degli appunti, Padre Pio aprì il cassetto della sua scrivania e gli diede un quaderno. Da un lato era vuoto, ma dall'altro era ricco di appunti e tra questi c'erano una serie di appunti che prendevano in particolare anche un breve discorso di Padre Pio legato al Natale di Gesù. E lui scrive, nel cuore della notte, nella stagione più rigida, nella più gelida grotta, più abitazione di armentiche, di umana creatura, veniva alla luce, nella pienezza dei tempi, il promesso Messia, Gesù, il Salvatore degli uomini. Quali e quanti non sono cristiani gli insegnamenti che partono dalla grotta di Betlemme? O come deve sentirsi acceso il cuore di amore per colui che tutto tenerezza si è fatto per noi? E come dovremmo ardere del desiderio di condurre il mondo tutto a quest'umile grotta, asilo del re dei re, più grande di ogni reggio umana, perché trono e dimora di Dio. Chiediamo a questo divino bambino di rivestirci di umiltà, perché solo con questa virtù possiamo gustare questo mistero ripieno di divine tenerezze. Poi qui Padre Pio continua, ma andiamo verso la conclusione per raccontarvi quelle che sono anche le sue emozioni. Il celeste bambino soffre e vagisce nel presepe per rendere a noi amabile, meritoria e ricercata la sofferenza. Egli manca di tutto, perché noi apprendiamo da lui la rinunzia dei beni e degli agi terreni. Egli si compiace di umili e poveri adoratori per invogliarci ad amare la povertà e preferire la compagnia dei piccoli e dei semplici a quella dei grandi del mondo. Prostriamoci, prostriamoci fratelli, innanzi al presepe con il grande San Girolamo, il santo infiammato di amore a Gesù Bambino. Offriamogli il tutto il nostro cuore senza riserve e promettiamogli così di seguire gli insegnamenti che giungono a noi dalla grotta di Bertlemme, che ci pregano essere tutto qua giù. Vanità delle vanità, non altro che vanità.